buongiorno oggi partenza da cacabelos alle solite sette e un quarto e oggi non so ancora c'è la possibilità di fare 29 chilometri oppure 32 e con un pezzettino di salita finale comunque la tappa sarà tutta sul saliscendi tendente alla salita e domani poi salita tosta fino a ossebreio dove inizia la galizia a dopo la tappa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto camminando da un pezzo su questo fondo valle brutto diciamo, a fianco alla strada, tra l'altro il primo pezzo è proprio a bordo strada e forse adesso vedo che finalmente ci si distacca. E oggi arriverò alla fine alla Faba che sono 32 km quindi sarà una bella tappa tosta con salita finale però un pezzo in meno di salita da far domani. Non male, oggi cercherò di fare pause più brevi a parte magari la pausa pranzo da non arrivare poi troppo tardi. Pausa pranzo rilassante nel parchetto, poi ho rigenerato i piedazzi nel Roscello e adesso si riparte. Grazie. Grazie. La Faba, 32 km. È stata tosta, alla fine è una tiata, quel maledetto di Cristofe è partito, ho cercato di seguirlo, mi ha massacrato anche stavolta, ho fatto una tiata, spero di non pagarla domani. Adesso sto abbastanza zoppicando e l'albergue è molto molto bello e abbiamo mangiato poi adesso a un bar qua vicino e domani si sale a Ossebreio e facciamo 27 km. A domani. Rischia di farsi investire per il suo blog di merda, attenzione, sta riprendendo la bestia, la bestia, guardate come cammina la bestia, ha le braghette tirate su per mostrare la quadricip... Quattro... Quattro... Quattro...